Ma è normale avere mestruazioni molto dolorose? Ma in realtà no, forse c'è un retaggio culturale che dice che la donna debba soffrire necessariamente. Non è vero. Avere qualche fasidio può essere normale, ma quando il fasidio è dolore, vero e proprio, normale non è. E anche lì è un campanello d'allarme proprio per l'endometriosi. Rivolgiamoci a un medico, a un ginecologo e meglio a un ginecologo esperto, perché già da questo potrà portare il sospetto della diagnosi verso l'endometriosi.